Siamo a rincare il pregio e ci accogliamo e qui, dopo le videa stiamo in piazza, dopo il presidente e il capitano del campanile che si è un giacquato, Francesco Ceccarone e Giuseppe Gasolini, vincitore già di fare dal presidente Giuseppe 29, chi c'era? André, ci sei tu, ecco anche qui tigli, è arrivato anche Fabio che piangeva, Fabio proprio questo Gasolini e fra trent'anni campanile, fra trent'anni campanotti e fra trent'anni campanile, sono un uomo, un'esercizio, un'esperto, un'esperto e un'esperto, un'esperto, un'esperto e un'esperto e un'esperto e un'esperto di Marco, ecco qua, i comuni di Marco e grazie per questa occasione a tutti Siamo arrivati, abbiamo iniziato a lavorare che stiamo lavorando e poi dobbiamo tornare però è ripensitato stiamo arrivati a questo anno con qualcuno nuovo la porta di Vigo vicino lì ti sei scarnato e va bene a me piace visitare quello che c'è in un paese artistiche, storiche, monumentali e qui vedendo di passaggio velocemente da una parte all'altra della cittadina ho visto che ci sono molti angoli che mi piacerebbe fotografare visitare e venire ad apprezzare senza la necessità senza dover lavorare ma proprio a fare il turista poi non hai visto il lago di Vigo una cosa c'è da dire ci sono le figlie di Salvatore San Giorgi che era una persona molto cara appassionata alle corse che hanno preparato un premio per il miglior raccino per cui sono loro che hanno scelto secondo me che hanno il miglior raccino per cui le invito a salire un momentino in modo che ci dicono che ritengono che sia il miglior raccino un grazie a tutti quanti a Campanone complimenti a tutti quanti i rioni sono stati più bravi a provarsi un buon senso la saggezza e abbiamo fatto una cosa bellissima abbiamo gettato le basi per il futuro del Padre di Concilione grazie a tutti quanti viva Concilione viva il Padre Piero Ciglonesi grazie a Silvia con la strada Giovanioli del Comune di Ciglione e adesso c'è questa prevenzione prego buonasera a tutti complimenti a Campanone io sono veramente onorata di essere qui oggi e di poter consegnare questo premio in onore di una persona semplicemente meravigliosa che ha amato questo padio ha vissuto per esso ed ha amato le borse a vuoto come un padre ama la sua famiglia ed io sono cresciuta con questa tradizione scorrere nel mio sangue come nel suo perché questa persona è mio padre ed oggi sarei felicissima per vedere questo sogno di nuovo realizzato dopo sei anni sono oggi orgogliosa di consegnare il premio come visione a Scino del Padre di San Bartolomeo nel 2013 in onore di mia madre San Bartolomeo e San Giorgi a Marco Ponesi bendi dai complimenti complimenti ti ha fatto emozionali a tutti che hai fatto sentire lo spirito e l'amore che ha rossi genito della donna brava Marco bravi Due parole Marco, è stato un pallo...